Ciao sono Colkenji, oggi siamo nuovamente qui con un nuovo episodio su CHKN, come volete chiamarlo è un indie che ho trovato, adesso è in alfa quindi non ci sarà molto da vedere dove potremo creare la nostra creatura come diavolo vogliamo, un po' come Spore se vi ricordate o se non l'avete ancora visto nel mio canale c'è una trentina di video quindi guardateli pure, allora intanto qua abbiamo poco da scegliere perché le opzioni io ho già guardato ci farà fare il tutorial ma meglio, ok, oh beh beh beh, questa aveva una grafica un po' peggiore, ecco intanto c'è, ok, qua ci dice con il mouse, ok, ah ok siamo in terza persona ma farò sempre meglio, perfetto l'ho fatto, abbiamo l'inventario quanta roba, ok, perfetto, bello bello ah ok, alla minecraft, quindi possiamo prendere, ah la cosa di giraffa, figo ok, 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 togliamoci pure questo, possiamo cliccare tutto quello che vogliamo, vedete che in mezzo alle palle c'ho tutto, perfetto, allora, quindi basta che clicco sopra, vediamo queste cose qua di giraffa che mi son messo ok, 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 posso volare, perfetto, shift per regio, perfetto, possiamo volare? ok, quindi, ah da qua devo partire, perfetto, quindi io se faccio così, uh, ok, ok, posso aggiungere altri blocchi ok, 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 ah, la freccia mi dica che guarda di qua la creatura, perfetto, ah, col destro, ecco, togliamo tutto ah, ok, ok, laura rossa ci dice quali stanno per togliersi ah, con E, proviamo a piazzarne uno ok, e con E con E cosa posso fare? Ah ok, eccone Lo posso girare Quindi io se faccio esc Ah no Non ho capito Ah ok, basta che me ne vado da qui Perfetto Quindi adesso la mia creatura è viva Quale questa? Ah si muove, si muove Quindi La prendo e posso metterci Proviamo a metterci Tipo abbiamo Ah anche con la rotellina, meglio così Allora, sci Ok, ci ho messo il becco che L'ho messo benissimo Posso metterlo così Questa parte giusta? No, naturalmente Questo via e questo via Allora Ok, così Mettiamo due becchi E così Perfetto No, beh, così non va tutto bene Ok Ne mettiamo tre Guarda Tre becchi Poi vediamo un po' L'inventario Abbiamo qualche bell'occhietto Snake Dobbiamo metterlo a posto di questo Vediamo Non capisco da dove stiano guardando Dobbiamo mettere qui Vediamo Abbiamo sbagliato qualcosa Perché mi sta piazzando roba Allora Occhi messi Abbastanza bene Ok No No, ho tolto tutto Ho tolto tutto Ho tolto tutto Beh, facciamo una cosa veloce Uno che ho so Sinistro piazza Sinistro piazza E ci mettiamo le ali Di qua E qua Di qua Perfetto Basta La massima ci mettiamo di nuovo una bocchetta Perfetto Anzi ce ne mettiamo due Perfetto Ce ne mettiamo di nuovo Perfetto Andiamoci Dalla modalità Ok No No, 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 no Non voli Non voli Aspetta Sto cercando di mangiare No, no Voglio che vola Come faccio? Metteremo che vola Vediamo un po' Se ci sono delle ali Code Zampe Musi Ah, non abbiamo molto Allora mettiamo questo Qua Perfetto No Mettiamo ora qua Perfetto Cerchiamo di mettere qua Oh mio dio Allora Una lì E una Una qui Perfetto Oh, adesso si La mia creazione Allora Poi avevo visto nel video che Ah, ok Posso dargli da mangiare Perfetto Ah, dipende dal becco Che li ho messo Perfetto Ok Lo devo far giocare E lo devo far esplodere No, non devo farlo Vediamo Ah, mangia 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 Ok, dobbiamo fare ancora qualcos'altro Allora, il pallone Perfetto Ah, gioca E posso anche portarlo in giro Se non mi sbaglio Adesso vediamo un po' Vieni Carino Vieni Ok, andiamo Facciamo un giro Vieni a fare un giro So Che cavolata Comunque questa qua È solo l'alfa Quindi Poi credo che Probabilmente Prendiamo anche Crafting E robe Vediamo un po' Cosa è questo Ah, un altro inventario Ok Vieni con me Andiamo a saltellare Dell'acqua Faccio un bel bagnetto Vieni, 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 vieni Dai che andiamo a nuotare Comunque se Adesso vediamo ancora un po' Da mangiare Questo qua cos'è? Chicken braw No Ho sbagliato Questo qua li fa Ah, ok È il Piume Piumaggio Vai, mangia, mangia Mangia Ti mettiamo anche una bella bomba Che cacchio è? Ehi, ehi, ehi Ragazzo 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 Ok Vediamo un po' Inventario Abbiamo la bomba Da qualche parte Vediamo un po' Abbiamo qualcosa del genere Un uovo No, non possiamo esploderlo Però Abbiamo Delle cre... True eggs Oh, oh, oh Che cavo Che cavo Che cavolo è successo Oh mio Dio Oh mio Dio Comunque cosa esce qua? Eh, mio Dio però Ne ho quattro E le fate andare Che diavolo Oh signore mio Vediamo vedere se si può uscire In qualche modo No, non si può uscire Va bene Quindi questa era l'alpha Del gioco Che non mi ricordo neanche più La dicitura Vediamo se ce lo dice qua A massimo ritorniamo al titolo Ritorniamo pure al titolo Ok Quindi questo era C-K-C-H-K-N O chiamatelo come volete Era solo l'alpha Quindi Di certo Continuerò a seguirlo Voglio vedere se Implementano qualcosa di più Quindi anche per questo episodio è tutto Come sempre Commentate Iscrivetevi un bel mi piace Nel prossimo episodio Ciao Ciao